Salve ragazzi, benvenuti nel canale Alienology, io sono Ali e quest'oggi sono qui per parlarvi del topolino numero 3467, eccolo qui. Sì, ma prima di parlarvi di questo numero di topolino che io sto portando, come al solito sapete a me arriva di martedì il topolino, oggi siamo a martedì 3 maggio 2022, volevo parlare di questo numero, ma prima ovviamente di parlare di questo numero voglio fare i miei saluti purtroppo a Luca Boschi che ci ha lasciato nella giornata di oggi, è arrivata la notizia qualche mezz'ora fa, insomma. Ho letto in rete che purtroppo è venuta a mancare l'autore, blogger, giornalista, scrittore, insomma, Luca Boschi, apprezzavo molto i suoi interventi nei redazionali dei grandi classici Disney, nell'almanacco topolino, insomma, mi dispiace molto per la sua scomparsa. E niente, volevo ricordarlo nel mio piccolo, visto che parlo anch'io, mi diverto, insomma, a parlare di fumetti Disney, volevo salutare Luca Boschi, un grandissimo professionista, per cui ragazzi, era doveroso da parte mia. Ciao Luca. Anche la storia principale di questo numero di topolino, sollevare appunto questo peso di 100 kg con il paperino e topolino che lo guardano incredibilmente estasiati e sorpresi. Con lo sfondo ci sono delle tendoni, questa carrozza, dei tendoni da circo, belli anche i colori, la scritta rossa con il rilevo bianco topolino, la scritta bianca Disney. Insomma, la copertina di Mastantuono è molto, nello stile, nel suo stile, insomma, nello stile di Mastantuono, uno stile di copertina molto ironico, perché comunque Pippo è un personaggio così e quindi si festeggiano per bene i suoi 90 anni. Devo dire che mi è piaciuta molto la copertina di Mastantuono, ma anche i colori di Andrea Cagolla. L'apriamo il nostro settimanale, vediamo la settimana di Silvia Ziche con che aria tira topolinea, ci sono tipettapi insieme a Pippo e Pippo che dice io vorrei essere superforte, superintelligente. E tu Pippo che superforte vorresti? Dicono tipettap. E Pippo risponde io vorrei essere superfelice, ma mi sa che lo sono già, allora vorrei essere superconsapevole di essere superfelice. Ecco, quindi molto simpatica come al solito la vignetta di Silvia Ziche. Alex Bertani, il direttore, ci spiega di quello che leggeremo in questo numero, e me lo sono segnato stavolta perché l'altra volta ho fatto un po' di confusione. Allora, praticamente su questo numero ci sono quattro storie, tra cui la storia celebrativa di Pippo, Pippo e bracciali di Maciste, di Francesco Artibani, con i disegni di Lorenzo Pastrovicchio. Poi c'è il secondo e penultimo episodio della Notte di Fantomius. La Notte di Fantomius sarà una saga, le strabilianti imprese di Fantomius, che si chiuderà non con il prossimo numero, ma con l'altro numero, il 3469. Si conclude la saga di Amelia e le Sette Streghe Vulcaniche su questo numero, quarto e ultimo episodio. E poi ci sarà il terzo di cinque episodi degli Urbani Paperi, che quindi continuerà fino al 3469. Quindi vi ho fatto un piccolo riassunto, finalmente, senza sbagliare nulla questa volta, perché l'altra volta un utente mi aveva fatto notare, insomma, voleva sapere se finivano gli episodi e avevo fatto confusione anch'io, per cui mi scuso con quell'utente, insomma, non mi ricordo il nome, comunque, insomma, avevo fatto un po' di confusione anch'io. Su questo numero, ovviamente, Pippo sarà il protagonista e la storia, appunto, qui vediamo con l'introduzione di Barbara Garufi. Mi sono piaciuti molto i disegni di Lorenzo Pastrovicchio, ma anche la storia di Francesco Artibani, perché vediamo una storia ambientata parecchi di molti anni fa, insomma, anche Topolino e Paperino sono disegnati in un modo molto più vecchio, insomma, nello stile, ma belli anche i colori di Lorenzo Pastrovicchio. E devo dire che Artibani e Pastrovicchio hanno fatto un ottimo lavoro perché la storia, cosa dice la storia? Praticamente la storia è così. Tanti anni fa Topolino e Paperino si apprestano ad andare in vacanza e in campeggio assieme a Pippo, che però fa un po' di confusione con l'attrezzatura e così i loro piani subiscono dei cambiamenti e non proprio minuscoli come delle pulci. Insomma, Pippo, al posto di prendere una tenda per andare in campeggio, prenderà una tenda da circo, quindi inscenerà un circo e ci sarà questo personaggio che andrà e lui, ci sarà un personaggio, praticamente quest'uomo con sua figlia, dov'è? Eccolo qui, che porterà questi bracciali di maciste che verranno presi da Pippo, che diventerà tutto in un tratto fortissimo, molto muscoloso, forzuto. Paperino e Topolino, insomma, soprattutto Paperino se la prenderà con Pippo perché Paperino voleva andare a doziare in vacanza, invece si troverà all'interno di un circo. Insomma, la storia vede ovviamente Pippo come protagonista, sempre molto simpatico. La storia mi è piaciuta, ma anche proprio i colori e i disegni. Devo dire che Artibani e Pastrovicchio hanno fatto veramente un ottimo lavoro. Poi esse come Pippo ci fanno un reportage dei redazionali dedicati appunto al nostro eroe, al nostro Pippo simpaticissimo che, come hai detto, compie 90 anni. Insomma, ci spiegano un po' i lati del suo carattere. Mi è piaciuta questa cosa. Mi è piaciuta molto perché Pippo è un personaggio, non è tra i miei preferiti in assoluto, ma è un personaggio di cui è impossibile parlarne male. È sempre molto simpatico. Mi piace un po' a tutti. Si continua con il secondo episodio di El Estrabiliante Imprese di Fantomius. Il secondo e penultimo episodio, come hai detto, il terzo ci sarà, non con il prossimo numero, ma con il prossimo ancora, nel 3469. Storie e disegni sono di Marco Gervasio, così come anche la supervisione Colore. Sebbene sia stato declassato da commissario semplice ispettore, Pinco non si arrende. Infatti, Pinco cercherà di agguantare finalmente il ladro gentiluomo, cioè Fantomius, che si troverà in difficoltà, molto in difficoltà all'interno della storia. E quindi, in questo secondo e penultimo episodio, ti lascia proprio l'idea di leggere anche il prossimo, di vedere come andrà a finire, se riusciranno ad agguantare, se Pinco ce la farà ad agguantare Fantomius, o se Fantomius, rifugiato nella sua dimora, o comunque nascondendosi, riuscirà a sfuggire a Pinco. Quindi sarà proprio un duello tra Pinco e Fantomius. E qui alla fine lo dice, comunque senza spoilerare, che nell'ultima impresa vedremo se Fantomius ce la farà, insomma, a sfuggire a Pinco. È un'avventura che tiene incollato, perché anche questo secondo episodio, devo dire che mi è piaciuto, e sono contento di questa mini-saga all'interno di Topolino. E la terza storia è il quarto e l'ultimo episodio di Amelia e le sette streghe vulcaniche. Dunque, ragazzi, qui non posso dirvi nulla, non posso spoilerarvi nulla, ma come ben avete capito, insomma, se avete letto già i primi tre episodi, Amelia ovviamente sarà protagonista di questa storia di Bruno Enna, soggetto di sceneggiatura, con i disegni di Roberto Vian. Insomma, come ben sappiamo, sappiamo che c'era un amuleto per i soldi, e tutto era inscenato, insomma, per Amelia che comunque ha sempre nelle sue mire il fatto di poter rubare la moneta numero uno a Zio Paperone, ma Battista la nasconderà. Insomma, come abbiamo visto negli scorsi episodi, sarà molto importante il ruolo di Amelia, perché ovviamente la protagonista, insieme a queste streghe dei vulcani che abbiamo visto in Giappone, in Islanda, in Tanzania, in Indonesia, insomma, in varie parti del mondo. Non vi dico come va a finire, perché ovviamente non voglio spoilerarvi, ma mi è piaciuto anche quest'ultimo episodio. Una saga che nei quattro episodi, forse i primi due, mi sono piaciuti di più, però devo dire che in generale mi è piaciuta questa saga. Benvenuti nel Multiverso, qui si parla di film, della Marvel Studios, che però io non seguo, sinceramente. E poi c'è il terzo episodio degli Urbani Paperi, una saga che, devo dire, che non mi sta proprio piacendo tanto. Si chiama Briganti, ovviamente soggetto ai sceneggiatori di Alex Bertani e Matteo Venerus, i disegni di Emanuele Bacinelli. Una saga che, non avevo capito, che durerà ben cinque episodi. Questo è il terzo, quindi nei prossimi due, vedremo il quarto, nel prossimo numero, il quinto, nel 3469. Una saga però che non mi sta proprio piacendo molto. sì, il fatto dell'idea di vedere il Paperi, gli italici Paperi, al posto di stare in campagna, insomma, li vediamo nell'antica Roma, è un'idea molto carina, però non mi ha soddisfatto in pieno, c'è qualcosa che non va, almeno per quanto mi riguarda, quindi non mi ha fatto impazzire anche questo terzo episodio. Poi ci sono, ovviamente, le barzellette di Paperino, che io apprezzo sempre. Io, Pippo, ancora una volta, anche nei disegni dei bambini, si festeggia il novantesimo compleanno di Pippo. C'è un reportaggio, un'intervista di Francesca Agrati ad Alessandro Cattelan, che io seguo, essendo un appassionato di musica, seguo da tempo, insomma. Qui dice il debut in TV è stato a Viva nel 2001, mi ricordo che ero ragazzino, insomma, poi c'è stato i vari programmi, insomma, un'intervista molto simpatica, perché praticamente sul prossimo numero, 3468, ci sarà un topolibro in cui ci sarà anche lui all'interno, Alessandro Cattelan, per cui, con la sua prefazione nel topolibro, che però di solito io non prendo, non colleziono, ma devo dire che sono sempre molto carini questi topolibri che arrivano in sovrapprezzo insieme al topolino settimanale. In edicola, questa settimana, Paperino in team, Ciccio in cucina, 100% cuccioli, Emanuele delle giovani marmotte che io ho preso, numero 23, più Paperinic, e poi vediamo il prossimo numero, 3468, con questa bella copertina di Paperonte, Paperoni, Ze Paperone, e dietro c'è un altro personaggio che vi lascerò, cioè, alla fine lo vedete anche voi, però, ora mi sfugge il nome, ragazzi, scusate, ma, dovrebbe essere, Filosganga, l'amica di Filosganga, ragazzi, scusate, un piccolo vuoto di memoria, comunque, tra sette giorni, dietro al sipario, occhio ragazzi, ci sarà, come detto, il topolibro, Superstoria e fumetti, ci sarà una storia di Aria 15, Sipario, primo e secondo atto, una storia di Pippo Spot, corso di pubblicità, Sopravvivi con Indiana, con la storia Nel Deserto, Archimede e il Profumo dei Guai, e il quarto e penultimo episodio di L'Urbani Paperi, Annus Confusionis, non so quanto, insomma, comunque era Brigitta, non mi ricordo il nome, dovrebbe essere lei, meno male che me lo sono ricordato, che figura avrei fatto, è l'ultima storia, cioè l'ultima storia, l'ultimo ciac, con la storia a una pagina finale, e di Marco Palazzi, e di Giornate da strega, Amelia protagonista, con la storia tablet, sempre molto simpatica, allora ragazzi, che dirvi di questo numero? Allora, sicuramente, è un numero celebrativo, per i 90 anni di Pippo, una storia carina, che mi è piaciuta, devo dire, anche se, se devo essere sincero, la storia, diciamo che sono, più o meno, tutte e quattro le storie, sullo stesso livello, forse quella degli Urbani Paperi, la metto un po' nelle ultime posizioni, cioè nel senso, è quella che mi è piaciuta, un po' di meno, però, la storia di Pippo, è stata molto simpatica, mi è piaciuta, così come il secondo episodio, delle notti di Fantomius, e anche l'ultimo, atto di Amelia, le sette streghe vulcaniche, una saga, che devo dire, che mi è piaciuta, per cui comunque, un numero, abbastanza soddisfacente, non tra i migliori, per quanto mi riguarda, ma, un buon numero, questo 3467, fatemi sapere nei commenti, se avete acquistato, questo numero di Topolino, se avete piaciuto la copertina, quale è stata la storia migliore, secondo voi, quale è stata la storia peggiore, cosa ne pensate, insomma, del novantesimo compleanno, del nostro amico Pippo, io come al solito, vi ringrazio, per aver visto il video, vi ringrazio per il supporto, che mi date sempre, fate bravi, e ci vediamo al prossimo video, ciao ragazzi!